Buona giornata, oggi è il 9 agosto 2014, sabato. Giovedì, sette giorni, esattamente due giorni orsono, il canale evolutore festeggiava il suo secondo compleanno. Il canale YouTube, purtroppo però non ho potuto celebrare con voi il compleanno del canale e me lo sono celebrato, me lo sono festeggiato da solo. Due anni di soddisfazione per le quasi 8000 visualizzazioni raggiunte, sono 7000 e qualche cosa, 7500-7600 aumentano di giorno in giorno. Quindi presto arriveremo alle 8000. Due anni di soddisfazione da aggiungere a questa soddisfazione numerica anche i lettori del mio libro Come evolversi senza invecchiare, pubblicato a maggio del 2011. Di questi lettori non ne posseggo i numeri, grazie al mio editore che non ha ancora sborsato una lira, ma soprattutto non si degna nemmeno di ragbagliarmi su numeri e quant'altro. Ma, caro editore, ci faremo sentire in settembre. Al di là di questo, che ha poca importanza, volevo ringraziare tutti voi che guardate, che ascoltate, che condividete, che assimilate quanto viene detto dal sottoscritto in questo canale. Qui è quanto viene suggerito anche talvolta sul profilo Facebook. E mi viene un attimino un suggerimento. Generalmente non ho ricevuto molte critiche. Forse perché ciò che dico è spesso e volentieri un po' fuori dal coro, quindi seguito da chi veramente ha un interesse profondo per certe tematiche e magari non preso in considerazione o preso un po' la leggera da chi non lo ha. Quindi, con scarsa interesse, allora è automatico che la critica venga meno. Ma, una critica che mi è stata segnalata è che spesso i miei video hanno troppe pause, troppe riflessioni. Dovrei essere, alcuni mi hanno detto, più veloce, più dinamico. Questa è l'epoca della velocità e del dinamismo dove la gente deve dire tutto e non far capire niente di quello che dice. Io non voglio far parte di quest'epoca. Io potrei farvi dei video bellissimi, dei montaggi stupendi, dei discorsi correttissimi, senza un secondo di interruzione, tutti d'un fiato. Potrei prepararmelo e montarlo. Voi manco ve ne accorgereste e farei una bella figura. Magari mi assumono anche come montaggio video. Sarebbe fantastico. Avrei qualche problemi con il video. Vabbè, mi procurerei un assistente. Un assistente, come dico io. Però, poi per l'audio non ci sarebbero problemi. Ma io non voglio questo. Io voglio che i miei video siano miei. E non voglio che siano apprezzati per la qualità tecnica del prodotto. Voglio che siano apprezzati per il contenuto. Ma soprattutto, io non sono il vostro consigliere. Io vi trasmetto il mio pensiero. Io vi trasmetto ciò che voglio dirvi nello stesso momento in cui sto girando il video. E voglio che quello che vi trasmetto entri perfettamente in voi. E non voglio che venga assimilato. Ma voglio che venga elaborato. Oggi, la TV, i giornali, i mezzi di informazione di massa, usano un linguaggio veloce, tecnico, per far sì che voi assimilate nell'immediato senza elaborare. Perché non vi danno il tempo di riflettere su ciò che dicono. C'è una parola dietro l'altra. Le parole si rincorrano. Le frasi si rincorrono. Io non voglio questo. Ecco perché preferisco fare dei video, magari con delle pause. Magari con dei ripensamenti che ci sono nel momento stesso in cui io vi sto spiegando una determinata situazione. Perché magari mentre la spiego, la ripenso. È un modo per insegnarvi a far lavorare la mente, a far lavorare il pensiero. Il pensiero libero è il peggior nemico. È il nemico più temuto al mondo. Di questa bianca dittatura alla quale noi siamo quotidianamente sottoposto. E io, con queste pause, con queste riflessioni, con queste meditazioni in tempo reale, nelle quali voglio assolutamente coinvolgervi, voglio far svegliare in voi la propria mente, il proprio pensiero, il proprio libero arbitrio. Voglio togliere dentro di voi quello che è il condizionamento dell'immediatezza della parola. Ecco perché i video talvolta mostrano dei silenzi, delle pause, delle riflessioni in diretta. Perché anche voi dovete abituarvi a questo. Se rimanete abituati al linguaggio veloce, al linguaggio coinvolgente e immediato, non va bene. Non va bene, assolutamente. Imparate a non pensare più, a assorbire come spugne e a essere sempre più vulnerabili e sempre più pilotabili. Il canale evolutore, il sottoscritto, non vuole questo. Non vuole trasmettervi questo nel modo più assoluto. C'è già tanta gente che lo fa. Ci sono già i mezzi di informazione di massa. Non lo voglio fare, non serve farlo. Per risvegliare le coscienze, il libero arbitrio, la libertà di pensiero, occorre nel modo più assoluto la riflessione. Il soffermarsi su ciò che si sente dire. L'elaborarlo prima di assimilarlo e farlo nostro. E quindi proseguirò, che piaccia o meno, su questa linea. Se non vi vanno i video in questo modo e volete i video perfetti, montati, andate su un altro canale, ce ne sono a miliardi. Il canale evolutore sarà sempre spontaneo, personale, vero, sincero, immediato, non con la velocità del linguaggio, ma con l'essenza del pensiero, aperto a tutti. Quindi, aperto a tutti perché, come sempre, avete l'opportunità di dire la vostra, scrivendo a evolutore-gmail.com. L'interazione non è mai stata negata, anzi, è sempre stata apprezzata. apprezzata e condivisa anche, quando c'è, insomma. Quindi, entriamo nel terzo anno operativo del canale evolutore. Questo anno evolutivo cosa regalerà a tutti coloro che guarderanno il canale evolutore? Regalerà, come sempre, il mio percorso evolutivo. Il mio percorso evolutivo continua, non è che si è fermato nel 2011 quando ho scritto Come evolversi senza imbecchiare. Continua, è sempre pieno di emozioni, di sorprese, di conquiste, di sconfitte, ma continua. La vita è un viaggio e ogni viaggio va vissuto pienamente con la consapevolezza e con la gioia di essere nel viaggio stesso. Il mio percorso evolutivo, perché voglio condividerlo con voi? Perché tutta l'energia dell'universo è condivisibile. Perché voi mi aiutate, mi stimolate, indipendentemente dai suggerimenti che mi date o meno. Ma il sapere che l'energia è condivisa e quando uno condivide l'energia, la propria essenza positiva, con il cosmo, secondo me, fa ciò che tutti dovremmo fare, ma soprattutto completa per se stesso l'operazione più bella del mondo. condividere le proprie gioie, i propri dolori, i propri pensieri, la propria voglia di sapere, mettere a disposizione di tutti il proprio pensiero, la propria esperienza, è un gran bel gesto, a parer mio. E non solo mettere a disposizione, ma anche saper ascoltare, raccogliere, sentire l'esperienza di tutti. Noi impariamo da noi stessi e da chi ci sta attorno. In come volversi senza invecchiare si sente spesso la parola maestra vita. Perché la vita, ricordatevi, piena di tutto ciò che è, è la miglior maestra in assoluto. Non è importante ciò che impariamo da qualsiasi scuola, noi possiamo frequentare, quanto lo è ciò che impariamo nel percorso della nostra vita, da ciò che condividiamo con tutto il cosmo, dalle persone alla natura, agli animali, agli insetti, eccetera. Tutto il cosmo è fatto di energia condivisibile. Diversamente non si va da nessuna parte, diversamente si firma inesorabilmente la condanna alla nostra morte. E allora il canale evolutore continuerà su questa linea, affrontando temi spirituali, affrontando tematiche politiche, umane, di pensiero, ma continuerà con questo spirito di condivisione e se volete anche di collaborazione. Perché scrivendo a evolutorechiocciolagmail.com anche voi potete proporre, anche voi potete realizzare con me contenuti da condividere. Auguri, canale evolutore, che sia un anno proficuo, il terzo che si va a vivere, pieno di gioia, di benessere, di amore, tutto da condividere. L'amore è bello se è condiviso, se è inglobato nell'energia cosmica universale e vissuto come tale. Con questa rima io credo che si possa anche concludere per oggi. Vi ringrazio come al solito, vi riricordo la mail, perché questa è la terza volta che la dico, evolutorechiocciolagmail.com Siamo in periodo estivo, quindi non c'è una frequenza di video come di solito c'è in autunno e in inverno, che ve ne sono due o tre a settimana. Per il momento siamo a uno alla settimana, grossomodo, ogni due settimane, ma in autunno non preoccupatevi che torneremo con la frequenza di due o tre video alla settimana, almeno due sicuri. Anche perché in autunno le tematiche da trattare saranno veramente tante, soprattutto anche dal punto di vista economico-politico, per cui avremo di che sbizzarrirci. Per il momento grazie, buone vacanze, godetevele, rilassatevi, e se avete tempo e voglia, riflettete non sulla politica, non sull'economia, non su come sta andando il mondo, ma su voi stessi. Cercate di conoscervi un po' meglio, nel profondo e interiormente. Vi fa solo bene.